Sì Ma che sta combinato padre al parco? Al parco? Lascia? È normale che si devono sistemare qualche immigrato! Lui li hai preso? Boh, è sempre stato un po' un coglione, però così mi pare troppo. Hai sentito che forse vogliono chiedere il quartiere via? Sì, vabbè, io voglio aiutare. Mi raccomando, voi assicuratevi che non possa passare nessuno. Se riescono a chiudere è un bordello, ma è un bordello vero. Peloce, che cos'è Antiburtino Terzo? Pare che sia un quartiere periferico di Roma. Qui dice che gli indigeni del posto l'hanno chiuso. Preparami un outfit da urlo, perché questa serie, le divening, lo andiamo a fare lì. Va bene che quelli fuori li lasciamo fuori che tanto più di macchissi in cula, però non è che tante volte quelli del quartiere possono uscire. Oh, ma che cazzo? Cazzo! Ma chi è sta matto? Forti, corri, scappiamo! Mo ti devo da far vedere una cosa importante. Ma come cazzo parti? Io ero pronta soltanto per fare un paio di posto. Poi poi c'erano quelli che ciucciavano le batterie. Poi il prestigiatore si è messo a fare una cosa schifosa con i vermi. E' un stizio esploso così, BOOM! Allora ma stanno a sentire. In giro ci stanno sti vermoni che entrano nel naso dalla gente. Se ci riescono diventi uno che pippa i batteri oppure esplodi. Papà è uno di loro, però c'hanno una paura fottuta del coso che usite per farse le unghie. E' una roba che se si avvicinano esplodono e diventano una specie di pappetta. Quindi secondo noi dobbiamo utilizzare sto coso per sterminarli tutti. Ma io e te non ci siamo già visti. Abbiamo qui tra noi un'intrusa. Ok, lo ammetto, sono di Roma Norte.